Musica Io ho fatto l'Erasmus a Bologna sette anni fa, una città bellissima. Bisogna sostenere la ricerca. Io lavoro all'Università di Zurigo e voglio esportare questa idea, cioè voglio proporre di fare un progetto per me anche a Zurigo. La ricerca oggi è fondamentale. Senza ricerca l'Italia non può andare avanti. Io mi occupo di bioetica, mi occupo di decisioni, di medicina e mi occupo oggi del potere di scelta, il potere di scelta dell'individuo e dobbiamo tutti prendere coscienza che è nostra responsabilità decidere per noi stessi, in medicina, il DNA, questioni di inizio e fine vita e dobbiamo prendere coscienza del nostro potere, dei nostri diritti. In modo particolare io mi occupo di rendere il Simplified Technical English in spagnolo. Sono delle regole linguistiche create proprio per redigere dei manuali totalmente intelligibili e comprensibili e completamente inequivoci. Il mio lavoro è importante perché la Green Economy a livello ragionale rappresenta uno strumento per il perseguimento dello sviluppo sostenibile. Quindi comporta una necessità di adattamento che presuppone i costi nel breve periodo e quindi comporta una necessità di condividuo. Grazie. Grazie. Grazie.